Bentornati a SOS Aghezzo TV, come annunciato ieri sera siamo tornati in zona Sallorentina, questa è la parte laterale della palestra SBA, che qui ci hanno segnalato, tu già lo sapevi, che il degrado diventa anche più fastidioso perché qua poche bottiglie. Qui è stato in questi giorni rispetto a quando sono venuto io un po' ripulito, si è tagliata l'erba, ma se vedi in terra abbiamo veramente le fogne a cielo aperto. Fogna ce l'ha aperto. Fogna ce l'ha aperto, è stata tagliata un po' d'erba, è stata poi lasciata lì e poi logicamente con la telecamera l'odore non si sente, però si vede anche qui c'è un pezzo di cemento abbandonato, dappertutto se su, qui ci sono le tue, cos'è questa? No, è una cosa digitale. Tu vedi completamente qui abbandonato a se stesso, buche coperte così con un po' di ghiaia, no, ghiaia no, non è anche la... l'unica cosa positiva sai che c'è? La fontana, ma io non ci berrei, io sinceramente non ci berrei. Ma fontana, questa funziona, è una delle poche fontane della città. Peccato in un posto assurdo, scusate. Allora, qua vediamo che... Qui hanno un po' ripulito, ma era il ricettacolo di silinghe che pescevano a te, adesso l'hanno tolta. Meno male che l'hanno tolta. Com'è qui la zona? Vedo un po' di degrado, ci passa spesso lei? Io diciamo quasi tutti i giorni. Come la vede qui? No, ma io vado qui al centro, qui sì, un po' di degrado è certo, un po' abbandonatina, un po' un po'. Un po' tanto. Oh sì, ora, tanto l'ha detto lei, lo volevo dire io, però mi ha battuto. Sì, è vero. Un po' è balantagliata. È vero. Mi sembra che c'erano le silinghe anche abbandonate. Ma questo non lo so, non lo so, da tutte le parti sono le silinghe. Io ho fatto l'infermiere, sicché lo so che si tratta le silinghe. Grazie. Ok, ragazzi, buona. Buona, buona. Ecco qua. Anche qui c'è il solito tombino. Tombino aperto. L'aperto, aperto. Coperto e coperto. Esatto, buttato tutto lì. Ma qui è aperto? Allora qui ci sarebbe un passaggio per poter entrare in via Garibaldi, all'altezza dei carceri. Però è completamente chiuso con una grossa inferriata. Tu vedi che c'è un po' abbandonato tutto. Qua di dietro forse è un nascondiglio abbastanza comodo. Che cos'è questo? Questo è il carcere. Siamo dietro il carcere. Siamo dietro il carcere. E tu vedi che qua potremmo entrare... Occhio dove metti i piedi. Eh sì, qua è aperto. Ah, quindi qui è aperto, altro che è chiuso. E' altro che è chiuso. È aperto. Quindi uno volendo può andare lateralmente nel carcere. Si vedi c'è il cancello su in cima alla strada e nel cancello su in cima alla strada siamo su via Garibaldi. Ma laggiù è chiuso il cancello. Laggiù penso che sia chiuso. Ma era chiuso anche questo con la catena, non ho capito perché è stata aperta adesso. Guarderemo il massimo che chiunque possa entrare... No, ma è completamente... Poi di qua, logicamente, andiamo a San Clemente dove c'è il centro anziani e poi si risbocca alla porta San Clemente. Esatto. Ecco, questa purtroppo è la situazione che abbiamo in questa zona. E' migliorata anche, diciamo, rispetto alle segnalazioni che avevamo avuto. La situazione è migliorata perché hanno tagliato leggermente l'erba. Qualcosa hanno fatto, hanno tagliato soltanto l'erba. Però per il resto... Però quel cancello andrebbe chiuso, insomma. Era chiuso, oggi lo trovo aperto. Oggi chissà da quant'è che è aperto. No, no, sì, ce l'ho avuto un paio di giorni fa. Sì, era chiuso? Sì, era chiuso con il canne lucchetto. Perché lì c'è degli anfrati, insomma, non è molto... Esatto, sicuramente la notte è un posto ideale per avere qualche problema. E quindi fra la puntata di ieri e la puntata di oggi abbiamo visto questa zona, che condizioni è, e quindi di conseguenza anche il quartiere porta il sforo come soffre la zona, perché in effetti non ha possibilità di poter sviluppare all'esterno qualsiasi attività. E questo lo penalizza in modo pesante. E poi qui, insomma, ci sarebbe da... Chiaramente, ecco... Perché tu sai che i quartieri... Questi sacchettini cosa sono? Eh, non lo so. Non so cosa sia. Qualcosa c'è dentro. Sì, perché i sacchettini messi così, vorrei pensare male, ma non sono esperto. Dico, tu sai che i quartieri si autofinanziano un po' da se stessi, con le scene, con le attività in genere che fanno prima e durante la giostra, e quindi qui sono veramente in difficoltà perché non possono mettere fuori neanche i tavoli a questo punto qui. Oggi per i cantieri, domani per i residenti che verranno proprio sopra la sede. Eh, bisogna dire l'amministrazione che pensa a trovare una soluzione alternativa, perché il quartiere portere fuori qui non può stare. Va bene la sede storica, sicuramente sì, ma per il resto poi non può stare, deve essere trasferito da qualche altra parte, per poterli fare svolgere la tua... Visto che è una zona frequentata, oltre che dal quartiere, dai giovani, dai giovani anche che fanno sport, insomma, qui qualche controllo in più ci vuole, in questo... C'è anche magari qualche agente della Municipale della Polizia, magari ci vengono già, però io andrei a venire in certe ore a vedere, perché qualcosa qui c'è, insomma. Sicuramente sì. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.